Poracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Chiudiamo la settimana con un bel video di speculazioni. Come mi avete fatto notare, infatti, i recenti trailer di Super Mario 3D World e New Pokemon Snap hanno ridato credibilità alle prediction di Marco Maro, un leaker con alle spalle uno storico molto interessante. Prima di andare a vedere cosa potrebbe riservarci Nintendo per il 2021, e credetemi ci sono dei nomi da infarto, se questo genere di video vi piace, come al solito vi invito a lasciare un like e iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per essere sicuri di non perdervi i miei prossimi contenuti. Iniziamo! Marco Maro è un leaker con uno storico di previsioni abbastanza affidabile. Le sue prediction per il 2020 non sono state accurate, ma è anche plausibile pensare che i piani di Nintendo siano cambiati radicalmente a causa della crisi globale. A riaccendere la fiducia nei suoi confronti, c'è stato questo tweet del 4 gennaio, dove venivano anticipate con precisione non solo alcune caratteristiche di Bowser's Fury, ma anche l'arrivo imminente del trailer dedicato al gioco. A rafforzare le sue speculazioni c'è anche il fatto di aver inserito in un post datato 19 novembre 2020 l'uscita di Pokemon Snap per la primavera 2021, gioco che proprio ieri ha visto la sua pubblicazione confermata per il 30 aprile. Quindi, partendo da questi presupposti, vediamo cosa ci riserva, secondo Marco Maro, il 2021 di Nintendo, cercando di capire se sono previsioni plausibili o sogni senza un minimo di appiglio alla realtà. Il primo quarto del 2021 ci riserverebbe un casino di novità e titoloni. Oltre al già citato Pokemon Snap, la saga dei mostriciattoli tascabili dovrebbe ritornare con una collection prevista per febbraio. Ora, nell'ottica dei festeggiamenti per il 25esimo anniversario della saga, una raccolta di qualche titolo storico farebbe sicuramente la felicità dei fan e rappresenterebbe un successo garantito per The Pokemon Company, massimizzando i guadagni con il minimo sforzo. Ma febbraio mi sembra veramente troppo vicino e con l'attenzione tutta puntata su Pokemon Snap, l'imminente annuncio di una collection del genere mi sembra molto improbabile. Magari chissà, l'uscita a febbraio è troppo vicina, ma in quel mese potremmo vedere l'annuncio ufficiale della sua esistenza. Nel primo quarto dell'anno dovrebbe arrivare, almeno in Giappone, anche il remake di Famicom Detective Club, un'operazione pensata per accorpare i tre titoli appartenenti all'avventura grafica uscita solo in Giappone, ma la prima vera bomba dovrebbe essere la presenza del seguito di Breath of the Wild per aprile 2021, salvo ulteriori ritardi. Vedere Breath of the Wild 2 ad aprile per me non è così assurdo, anzi, con i festeggiamenti per l'anniversario di Mario terminati, infatti il 31 marzo sarà l'ultimo giorno ufficiale della ricorrenza e l'inizio del nuovo anno fiscale, Nintendo potrebbe decidere di inaugurare in modo esplosivo i festeggiamenti per il 35esimo anniversario della saga di The Legend of Zelda. Resta da capire solo quale potrebbe essere una data plausibile per l'annuncio dell'uscita e la conseguente campagna pubblicitaria che ci accompagnerà fino alla pubblicazione del titolo. Per me un ottimo momento potrebbe essere subito dopo l'arrivo di Super Mario 3D World, un altro gioco in grado di monopolizzare l'attenzione della fanbase. Quindi un nuovo trailer a fine febbraio e uscita per aprile. Cosa ne pensate? Dopo una bomba del genere la prima metà del 2021 si concluderebbe con tre titoli veramente inaspettati, un Metroid in 2D, una nuova IP e un remake di Fire Emblem. Del Metroid in 2D se ne vocifera da tempo e Marco Maro specifica addirittura che i lavori sul titolo sono già finiti e che il gioco sia in attesa della finestra ottimale per la pubblicazione. Si tratta secondo me di una previsione un po' azzardata, ma visti gli ottimi risultati ottenuti nel 2017 con Samus Returns e lo stallo della produzione di Metroid Prime 4, perché no? Quello di tirare fuori un nuovo capitolo della saga rifacendosi alle sue radici in due dimensioni potrebbe essere un ottimo modo per tenere vivo l'hype intorno alla serie in attesa dell'arrivo del nuovo Prime sviluppato da Retro Studios. Sarebbe interessante poi vedere una nuova IP targata a Nintendo, ma con tutti questi titoloni in uscita rischierebbe di rimanere schiacciata da nomi ben più noti, un po' come è successo per Pikmin 3 Deluxe alla fine dello scorso anno. Mentre sono fiducioso per il remake di Fire Emblem, visto che Nintendo ultimamente sta puntando molto su questa serie di strategici. Come tutti i suoi franchise di punta, la casa di Kyoto sta cercando di garantire almeno un titolo all'anno appartenente alla serie, chissà che Intelligent System non si ha già lavoro su questo fantomatico remake, ma è con la seconda metà del 2021 che le cose si fanno veramente interessanti. I festeggiamenti di Zelda proseguirebbero non solo con una collection in stile 3D All-Stars, ma anche con i porting da Wii U, che a loro volta erano dei remake in HD da Wii. In questo caso però la divisione mi sembra un po' strana e più che altro mi riesce difficile collocare all'interno della collection di Zelda Skyward Sword, titolo che secondo me verrà presentato come il remaster da sé stante. Insomma, quello del complano di Zelda è un argomento scottante di cui parleremo in modo approfondito in un video dedicato. Intanto fatemi sapere nei commenti quali sono secondo voi i titoli che andranno a comporre un'eventuale collection. Abbiamo poi remake di quarta generazione di Pokémon, altra uscita che do praticamente per scontata. Tra l'altro dalle parti di The Pokémon Company le acque si stanno smuovendo parecchio e l'annuncio secondo me è imminente. Discorso molto diverso per i titoli che Marco Maro colloca alla fine del 2021. Bayonetta 3, un nuovo Kirby e Donkey Kong Country 6. Così, dai titoli minori per chiudere in modo tranquillo l'anno. Bayonetta 3 o esce nel 2021 o lo possiamo ufficialmente considerare un vaporware. Non so cosa è successo a Camille e Platinum Games, ma c'è assoluto bisogno che Bayonetta torni in grande stile nel 2021. Il nuovo titolo di Kirby potrebbe essere una bellissima sorpresa. In fondo si parla di un'altra serie su cui Nintendo ritorna a cadenza regolare. E per il nuovo country, che dire? Se ne parla da parecchio e io sarei felicissimo di vederlo. Per il leaker però si tratterebbe di un titolo non sviluppato da Retro Studios, team impegnato con Prime 4, ma soprattutto di un progetto pensato per rappresentare nella linea evolutiva dei country quello che la serie New Super Mario Bros ha significato per i platform in 2D della serie Mario. Un'affermazione che sinceramente mi lascia un po' perplesso. Non è finita qua però perché ci sono anche dei titoli sospesi nel vuoto che non aspettano altro di essere annunciati. Abbiamo di tutto, da un nuovo capitolo di WarioWare a un nuovo episodio di Style Beautique, senza contare altri porting di Platinum Games, magari Mad World o chissà, il mai dimenticato Beautiful Joe, un seguito di Captain Todd che sarebbe apprezzatissimo e un gioco solo digitale di Intelligent System. Una sorpresa gradita, che vedrai bene come annuncio inaspettato nel bel mezzo di un corposo direct. E in chiusura abbiamo la sezione Beyond, ovvero tutti i piani Nintendo che vanno dal 2022 in poi, che lasciatemelo dire, più che una serie di leak, mi sembra una letterina scritta Babbo Natale. Tra i titoli figurano ovviamente Metroid Prime 4 e la Prime Trilogy Collection, due chimere che prima o poi vedranno la luce. E anche i seguiti di Let's Go Pokémon e Detective Pikachu, che visti gli incoraggianti dati di vendita, sono una previsione molto realistica. Peccato che dal nulla escano cose come un nuovo Wario Land, i remake degli Zelda Oracles e anche di Paper Mario, il primo per Nintendo 64, così come un nuovo Advance Wars e Pikmin 4. Che dire, tutto molto bello eh, ma siamo nel regno della speculazione pura e anche se si tratta di piani interni all'azienda, Nintendo si è dimostrata altamente imprevedibile ed è praticamente impossibile fare previsioni a lungo termine. Insomma, stiamo ancora aspettando news su giochi annunciati nel 2017, figuriamoci se ha senso entrare in hype adesso per dei leak del genere. In coda poi ci sarebbe anche un nuovo Mario Sports, così giusto per chiudere in bellezza una line-up ipotetica semplicemente da urlo. Insomma, poracci, cosa ne pensate di questi leak di Marco Maro? Visto come Nintendo si sta muovendo in questi giorni, secondo me il 2021 sarà ricco di uscite, ma credo che alcune delle previsioni dell'insider siano delle sparate troppo esagerate per risultare vere, purtroppo. In ogni caso sono curioso di sapere le vostre prediction. Vi aspetto nei commenti. Vi ringrazio per essere arrivati fino in fondo e per supportarmi sempre mettendo like a video e attivando la campanella delle porotifiche. Non mi resta che darvi appuntamento a lunedì, quando uscirà il prossimo video o stasera in live a partire dalle 21.30. Io sono il Poro Leak, Michele Maro, ciao!